Nemuffe, ne lieviti e tantomeno il fantomatico batterio Pseudomonas fluorations, ma un pesticida usato in Europa e in Canada nella lotta biologica. E' questa, secondo i ricercatori dell'Università di Padova, la causa delle famose mozzarella blu, apparse nel 2010 e ricomparse nel 2012 in varie zone d'Italia. I ceppi batterici responsabili della colorazione sono stati raccolti in parte con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e poi analizzati da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione di Padova che ha identificato per la prima volta in modo accurato il gruppo di batteri responsabili che appartengono ad un gruppo geneticamente ben distinto dalla specie Pseudomonas fluorations, figlio di un pesticida usato in agricoltura. Ora lo studio sarà pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica, ma per facilitare l'applicazione su larga scala della metodica utilizzata a Padova, a tutti i laboratori, è stato anche creato un database online che contiene tutte le informazioni utili e nel quale tutti i dati relativi ai diversi ceppi batterici potranno essere depositati e condivisi dalla comunità scientifica e dagli operatori del settore per favorire la tracciabilità e l'identificazione dei ceppi batterici e comprendere la loro provenienza e stabilire anche adeguate misure di controllo.